arriva la vittoria che ovviamente sa proprio in modo netto di scudetto non ce ne sono mai stati molti dubbi almeno da parte mia come già ho rimarcato 50.000 volte però devo dire che Sarri alla fine, Sarri è anche un po' Bonucci ma soprattutto Sarri voleva metterci del suo non per tenerlo ravvivato ma quantomeno per godere ancora un po' di quel pensiero sognante che spesso contraddistingue i tifosi come e perché tenendo fuori Di Bala perché l'ho detto l'altra volta a maggior ragione stasera dopo l'ennesima partita e prestazione sontuosa la domanda rimane la stessa ma come cazzo fai a tenere fuori Paolino Di Bala come cazzo fai soltanto a pensare che uno come Di Bala in questo momento nettamente migliore a tutti almeno in chiave juventina da un punto di vista anche della prestazione della prestanza fisica insieme a quella di Rabiot che è sempre in netta crescita e in quella dell'impareggiabile Bentancur c'è lui però aggiungici che Di Bala rispetto a Bentancur e Rabiot è l'unico che ti può dare quell'upgrade tecnico quindi la domanda rimane ancora una volta la stessa la medesima come cazzo fai soltanto a pensare che uno come Di Bala in questo momento debba restare in panchina lo vuoi fare una volta per rifiatare ma poi che senso ha cioè provo a entrare nella testa di Sarri e onestamente risposte non non ne riesco a trovare ma di Bala a parte mi aspettavo mi aspettavo qualcosa in più dalla Lazio forse sì anche se poi alla fine la reazione finale se vogliamo c'è stata ma sostanzialmente la Lazio si è fermata a quel tiro da fuori di Immobile anche lì concessione immensa di Bonucci che sta lì cioè se gli concedi tutto quello spazio Immobile gli dai tempo di caricare il destro è normale che va a prendere il palo perché poi è tenato una sassata bellissima, poderosa e poi lo stesso Bonucci fa una cappellata sul 2-0 e lì dà il via diciamo a un mini ma proprio mini arrembaggio della Lazio che si trova un po' senza giocatori, un po' senza idea, un po' senza fiato, un po' senza stimoli e la Lazio è la squadra meno incisiva del post lockdown, meno sul pezzo se vogliamo perché onestamente la rosa è quella che se ti vengono a mancare alcuni giocatori uno su tutti lui è Salberto ragazzi sfido chiunque, sfido chiunque però questo non vuole sminuire il valore della Lazio semmai a valorarlo perché la Lazio si è andata a conquistare almeno nei tre quarti di stagione si è andata a conquistare tanti di quei punti e gli si debbano fare i complimenti ma questa è una squadra che più di questo veramente quest'anno secondo me non poteva fare poi sappiamo la situazione Covid e compagnia bella ed è andata così ragazzi che c'è da aggiungere? di che dobbiamo parlare? di che vogliamo andare a sviscerare? ripeto, partita a ritmi se vogliamo bassi partita gestita poi dalla Juve che la sblocca con un rigore che c'è non credo che anche su questo ci sia bisogno di andare a polemizzare ulteriormente rigore che c'è la sblocca e poi da lì 1-2 è clamoroso l'errore del difensore sempre per Di Bala che si procura in modo aggressivo si va a recuperare la palla poi sempre Di Bala l'azione corale più bella della Juventus va via e mette una palla sulla testa sulla testa di Ronaldo e Ronaldo e Mobile adesso si contendono la classifica dei marcatori pari punti a 30 se non vado errato bella sfida ma credo che poi alla fine Ronaldo abbia più possibilità vista l'andamento della squadra vediamo, vediamo ragazzi e niente dai non c'è altro da aggiungere vi aspetto in live sì perché ne parliamo in modo più approfondito parliamo un po' di tutta la giornata della Serie A vi aspetto in live quindi iscrivetevi al canale vi aspetto veramente in live e parliamo parliamo ma senza polemiche perché ce ne sono state fin troppe di polemiche parliamo di calcio va bene? un grande abbraccio da Neschio grazie a tutti 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 grazie a tutti